Queste sono le ultime voci che Radio Alice ha diffuso. Un appello da Radio Alice, Radio Alice alla polizia alla porte, tutti i compagni del collettivo giuridico di difesa, per favore, si precipitino qui in via Pratello. Non so se sentite i colpi per radio. Sì, c'è la polizia qui fuori che tenta di sfondare. C'erano le pistole puntate e io mi rifiuto di aprire, gli ho detto fino a che non cavano le pistole e non mi fanno vedere il mandato. E poi, siccome che non cavano le pistole, gli ho detto che non apriamo fino a che non arriva il nostro avvocato. Puoi venire per favore, d'urgenza, ti prego, d'urgenza. C'erano le pistole, i colpetti antiproiettili e tutte ste palle qua. Diggi Mauro, stai basso! Il momento è che stanno levando gli avvocati. Chi io voglio che si... Che si, ascolta, c'è la polizia che la porta. Lascia giù per favore il telefono. Prego, i compagni di Radio Città, se stanno ritrasmettendo, come mi pare, il nostro programma. Se per favore ci danno un avviso, vi avvio, li sto ascoltando. Pronto? Comunque, compagni, la situazione è stabile. Signora, stiamo aspettando gli avvocati. La polizia, chi aspetta di entrare, sempre con i colpetti antiproiettili, sempre con le pistole puntate, hanno detto che sfonderanno la porta e cose di questo genere. Preghiamo a tutti i compagni, comunque che conoscono gli avvocati, di telefonarli e di dirgli che noi siamo appunto assediati qui dalla polizia in questa maniera. a, non so se avete visto il film, porca vacca come cazzo si chiamava, caso Caterina Blum. Stessi dentici, il Metti, gli stessi denti che giubbotti antiproiettili, le berette puntate e cose di questo genere. Veramente assurdo, veramente incredibile, veramente da film. Giuro che se non battessero sulla porta qui di fuori, penserei di essere al cinema. Niente, siamo in quattro qui che facevamo i lavori contro informazione e siamo qui che aspettiamo la polizia per vedere che cazzo fa, per il momento sembrano tranquilli, non fanno tanto casino, si sono calmati, hanno smesso di picchiare contro la porta, si vede che la ritengono molto robusta. Mi dai un disco che mettiamo su un po' di musica, porco Dio. Il telefono qui a getto continuo, veramente a getto continuo, ecco qui Beethoven, se vi va bene è bene, se no seguem. Un po' di musica in sottofondo. Dunque la polizia ha ricominciato a battere sulla porta, continua a arrivare di aprire. Stai attento, stai giù. Gli unici commenti sono porco Dio aprite e cose di questo genere. Alice? Sono entrati, sono entrati, sono entrati, sono entrati, siamo con le mani alzate, siamo entrati, siamo con le mani alzate. Ecco, sono strappato, sono strappato il microfono, saldiamo le mani in alto. No, di questo è un posto rimandato. Buonasera, quindi abbiamo appena ascoltato due contributi audio, sei molto toccanti, il primo è la registrazione originale dello sgombero di Radio Alice, il secondo di Radio Gap. Sono due contributi audio che appartengono a due anni diversi, due epoche diverse, quindi il 77 e il 2001, quindi il G8 di Genova. Radio Alice e Radio Gap hanno fatto controinformazione e quindi la controinformazione è una delle forme, potremmo definirla una delle forme di resistenza, di nuove resistenze. Ecco, c'è un filo che lega Radio Alice a Radio Gap, che quindi lega anche il 77, le proteste giovanili del 77 ai nuovi movimenti, quindi a Genova e al 2001. Romano Giuffrida, scrittore, giornalista e via dicendo, adesso ci racconta, ci spiega questo percorso, questo filo che lega il 77 al 2001 e quindi anche l'esperienza di Radio Alice a quella di Radio Gap, dei movimenti del 77, alle esperienze dei nuovi movimenti. Buonasera. Allora, sì, ad ascoltare appunto queste due registrazioni sembra che effettivamente non sia cambiato granché, anzi, se è cambiato qualcosa è cambiato certamente in peggio. Ci sono però chiaramente delle grosse, grosse differenze tra gli anni 70 e il 2001 e gli anni che stiamo vivendo. Quali sono queste differenze? Beh, innanzitutto parto da un dato biografico, da una valutazione assolutamente soggettiva che mi porta comunque a dire che belli che erano gli anni 70. Erano belli gli anni 70 perché? Ma perché prima di tutto c'era un clima, c'era una società, una parte di società che per mille strade diverse era riuscita a unirsi. C'era il movimento, il movimento che era un movimento fatto prima di tutto, un movimento studentesco, ma non solo, c'era un movimento operaio, un movimento operaio molto forte. C'era il movimento della lotta per le case, non era una cosa da poco, era una lotta dura che coinvolgeva migliaia e migliaia di persone in tutta Italia. C'erano poi coloro i quali, forti appunto dell'idea del movimento, lavoravano nei vari spazi, nell'ambito della medicina del lavoro, per esempio. L'ambito della medicina del lavoro negli anni 70 ha conosciuto uno sviluppo notevolissimo perché chiaramente si collegava alle lotte operaie, non solo per il salario, ma appunto per la salute in fabbrica. La logica, il comprendere lo sfruttamento non passava solo attraverso il fatto di di vedersi retribuiti in una certa maniera, ma di sapere di essere retribuiti in una certa maniera e per di più lasciare un pezzo della propria vita quotidianamente alla fabbrica e al padrone. Insieme a questo movimento appunto per la medicina del lavoro, che si coinvolse poi con medicina democratica, ci fu psichiatria democratica, ovvero sia la riflessione sul fatto che questo sistema non produceva solo sfruttamento, ma produceva emarginazione, emarginazione che passava, guarda caso, anche attraverso gli ospedali psichiatrici, dove veniva eliminato o comunque recluso il diverso e quindi veniva reclusa la diversità. Poi c'è un lavoro appunto sull'informazione, migliaia e migliaia di giornalisti in quegli anni scoprirono finalmente il loro ruolo importante nel sistema politico ed economico, capirono quanto la loro funzione fosse in fondo quella di essere i portavoce, a seconda anche delle varie tendenze, ma comunque sempre i portavoce di un sistema. E scoprendo questa cosa dissero basta, e non lo dissero solo appunto attraverso le radio private, che tra l'altro poi nascono alla metà degli anni 70, ma lo dissero, cominciarono a dirlo già verso la fine degli anni 60 e lo dissero anche alla RAI, dove si formarono comitati di redazione, dove si formarono unioni tra tecnici, operai e giornalisti in un movimento collettivo che si muoveva per un'informazione più democratica. La stessa cosa poi avvenne nel cinema, avvenne nell'ambito della musica. Non parliamo poi degli anni 70, l'importanza che ebbe per esempio la crescita e lo sviluppo del movimento femminista, che fu fondamentale, non solo fondamentale per la forza che portò nel movimento, ma fu fondamentale perché diede poi da un certo momento in avanti una svolta anche al movimento stesso, cioè la riflessione appunto uscì semplicemente dai classici canoni diciamo marxisti del conflitto di classe, ma improvvisamente mise in evidenza, mise in luce quelli che erano, diciamo tutti gli aspetti che questo sistema erano stati assorbiti anche da tutti quelli che facciano parte del movimento, ovviamente essendo cresciuti in una determinata cultura, sto parlando del popolo dei maschietti chiaramente del movimento. Sendo cresciuti in una determinata cultura, con determinate scuole, con determinate informazioni, chiaramente si ritrovarono imprevisamente a fare i conti con quanto di fascista, tra virgolette, portavano nel loro modo di essere nei confronti dell'altra parte del cielo, o dell'altra metà del cielo, uno slogan appunto era quello che diceva appunto compagni in piazza e fascisti in casa, quindi una riflessione di questo tipo portò elementi molto molto importanti negli anni 70. Ci fu, e questo poi è un elemento di cui parleremo anche più avanti, ci fu un forte movimento antifascista, antifascista, un movimento antifascista che si diceva appunto antifascismo militante, perché? Perché si ricollegava in primo luogo alla tradizione resistenziale, cioè l'antifascismo non era una semplice dichiarazione di intenti, una semplice dichiarazione di io sto da un'altra parte, tu sei di destra, sei fascista, stai da un'altra. No, il fascismo era stato battuto nel 1945, la Costituzione per quello che era diceva che il fascismo in Italia non doveva più avere spazi e l'antifascismo fu militante in quel senso e non a caso appunto fu una componente molto importante del movimento degli anni 70. Un altro, ne riparleremo dopo, un altro elemento molto molto importante, anche se questo visto con gli occhi di oggi aveva più un afflato romantico che qualcosa di effettivamente concreto, era il terzo mondismo, ovvero sia l'uscire dal proprio orticello, dai problemi di casa nostra per guardare quello che stava succedendo nel mondo, nei paesi dei cosiddetti terzo e quarto mondo, avendo poi tutta una serie di mitologici punti di riferimento, a seconda perché poi il movimento chiaramente adesso ne stiamo parlando come se fosse una cosa unica, in realtà ci vorrebbero giorni e giorni di seminari per affrontare che cosa significasse il movimento all'epoca, erano tanti gruppi, tante letture di uno stesso sguardo sul mondo, per cui allora c'era chi aveva il mito di Cuba, chi aveva il mito della Cina, chi aveva il mito appunto delle rivoluzioni, delle rivoluzioni dei paesi africani e via discorrendo. Ho detto, erano bellissimi quegli anni, perché tutto questo comunque creava un livello di, come si può dire, di partecipazione comune per un obiettivo comune. Bellissimi, ma nello stesso tempo in quegli anni si moriva molto facilmente, se si stava da quella parte. Si poteva morire per mano dei fascisti, sono stati tanti i ragazzi, le persone più o meno giovane che sono morte sotto il fuoco, sotto le sprango, sotto le coltellate dei fascisti. Si poteva morire per le stragi, le famose stragi di Stato che, guarda caso, coinvolgevano Stato e ancora nuclei fascisti. Si poteva morire per mano di polizia e carabinieri, e sono tanti anche lì i ragazzi morti per le strade, colpiti, ragazzi, e parlo di studenti, ma parlo anche di operai, sia chiaro, morti nelle strade per mano di polizia e fascisti. Quindi, comunque, erano anni belli, ma erano anni certamente difficili. Facciamo un salto agli anni 2000. Di tutto questo che cosa rimane? Rimane che per mano dei fascisti si muore ancora. Qualche anno fa a Milano un ragazzo di un centro sociale, DAX, è morto a coltellato per mano di fascisti. I fascisti, tutt'oggi, e credo di tre, quattro, cinque giorni fa, un assalto, cioè un'aggressione a Verona nei confronti di ragazzi di centri sociali, per mano di un gruppo, di una squadraccia di fascisti. Nel corso dell'ultimo anno, nel corso dell'ultimo anno e mezzo, assalti a centri sociali, a opera di gruppi neofascisti e neonazistici, ce ne sono stati diversi, a Milano, a Bergamo, a Brescia, a Varese, e so, anche a Roma, ad esempio. Si muore ancora per stragi. Oggi forse le stragi non hanno più l'etichetta fascista, ma si muore per stragi che, guarda caso, hanno sempre comunque un qualche cosa a che fare con i servizi, servizi cosiddetti segreti che poi tanto segreti non sono. Si muore per mano di polizie e carabinieri. Carlo Giuliani, di cui ricorre in questi giorni il quinto anniversario, è morto per una pistolettata di un carabiniere. Si va in galera, ecco un aspetto che mi dimenticavo degli anni settanta, si andava molto facilmente in galera, in quegli anni, e in galera ci si va ancora ad oggi. E quindi, diciamo che da questo punto di vista abbiamo tante belle similitudini con quegli anni. C'è un movimento, c'è un movimento anche molto forte, c'è un movimento, anzi, se vogliamo, sotto certi aspetti, anche più conseguente, sotto certi aspetti. Ad esempio, quelle che erano le dichiarazioni anticapitaliste che potevano esserci nel corso degli anni settanta, oggi sono diventate, se vogliamo, più conseguenti, ovvero sia non è più solo la dichiarazione di un anticapitalismo, ma c'è tutta una serie di comportamenti, più o meno grandi, più o meno incisivi, ma che danno comunque il segno di un qualche cosa, cioè i boicottaggi verso un certo tipo di aziende, i boicottaggi verso un certo tipo di consumi, cose che all'epoca, ecco, forse non c'erano, o non erano così evidenti, non erano così dichiarate. C'è un terzomondismo, anche oggi, molto forte, se vogliamo, anche molto più concreto nell'impegno, senza andare a citare il Chiapas, io parlo di terzomondismo anche per quelli che sono gli sguardi e le azioni nei confronti del mondo dell'immigrazione, cioè non è più solo, non è più soltanto l'aiuto, diciamo, ecumenico nei confronti dell'immigrato, povero, disperato, eccetera, ma c'è anche una lettura del perché esista un mondo dell'immigrazione oggi così evidente. E c'è una lotta contro i CPT, contro i centri di permanenza temporanea, ed è una lotta molto importante. C'è un ecologismo, ecologismo le cui tesi iniziali cominciarono già a svilupparsi in maniera molto forte negli anni 70, ma oggi c'è un ecologismo molto più interiorizzato da parte delle persone, cioè non si tratta più solo di piangere attorno alla devastazione del pianeta, ma ci sono movimenti, ci sono persone che si muovono nei confronti appunto della tematica ecologica con un'azione diretta, un'azione concreta, cosa ecco che questa negli anni 70 al limite faceva un pochino più fatica ad essere materializzata in questo modo. C'è un antiliberismo che è generalizzato, anzi se vogliamo questo è uno dei punti che potrebbero essere salienti salienti dei nostri tempi. All'epoca, negli anni 70, sulla base ciascuna delle proprie teorie che aveva sposato, immaginava, sperava che ci potesse essere un movimento globale che unisse operai, che unisse contadini, che unisse produttori, che unisse i cosiddetti dannati della terra, cosa che all'epoca era appunto un sogno, si sperava, si immaginava questo terzo mondismo, appunto Cuba, eccetera, però nella realtà dei fatti questo non avveniva. Oggi in realtà noi ci troveremmo, uso condizionale non a caso, ci troveremmo in una condizione tale per cui se ci fossero un certo tipo di maturità, se ci fossero delle linee politiche precise, se ci fosse una volontà politica da parte della cosiddetta sinistra, noi oggi potremmo per dire se la Fiat entra in sciopero a Torino, noi potremmo avere uno sciopero Fiat generalizzato in diverse parti del mondo, cosa che una volta questo non poteva accadere. Quindi diciamo che il quadro per quello che riguarda la situazione del movimento potrebbe essere buona, positiva. Quindi tutto bene, però c'è un ma. Questo ma non è da poco. Facciamo di nuovo un salto indietro. Finiscono gli anni 70, iniziano i tragici anni 80. Il movimento, quel movimento nato negli anni 70, va via via dissolvendosi per varie ragioni. In primo luogo la repressione, una repressione di Stato che si fa durissima. Sono costretto a leggervi perché non me le ricordo a memoria, alcune cifre di quegli anni. Verso la fine degli anni 70 noi abbiamo 100.000 indagati, 40.000 inquisiti, 8.000 incarcerati, 5.000 condannati. Queste sono le cifre della repressione in Italia. Un milione di lavoratori espulsi dal ciclo produttivo e di questo milione di lavoratori, i tre quarti erano le cosiddette avanguardie di lotta delle varie fabbriche. Non basta. Tra la metà degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, il sistema cosa fa? Attraverso i servizi, attraverso le mafie, comincia a diffondere l'eroina. L'eroina, guarda caso, si diffonde, non a caso, proprio negli ambienti più marginali, più marginali, ma sempre dell'area del movimento. Tant'è che noi passiamo dal 1976 al 1972 da 20.000 a 250.000 tossicodipendenti da eroina, per non parlare delle centinaia di morti per eroina che strada facendo nel corso degli anni si ritroveranno nelle strade, nei cessi dei bar, nelle stazioni. Il movimento quindi pian piano si dissolve per rinascere sotto forma, diciamo, certamente ridotta di almeno tre quarti, per rinascere all'inizio degli anni 80 pacifista, arcobaleno e basta. Così si... cioè, pacifista, arcobaleno e basta, mi sono sbagliato, no? Con tutta la serie di tesi anticapitaliste, ecologiste, eccetera, però, diciamo, che cominciano a diventare teorie, teorie del movimento, ma comincia a mancare un'azione concreta, soprattutto un'azione concreta di massa dietro queste tesi. Ci sono dei gruppi che si muovono, ma il discorso non è certamente più di massa. C'è uno sviluppo, a questo punto direi, tra virgolette, sconsiderato della lotta armata, di cui non abbiamo citato negli anni 70, perché meriterebbe un discorso a parte, però la cito negli anni 80, perché a differenza di quello che avviene negli anni 70, dove la lotta armata, senza adesso entrare nel merito, senza dare i giudizi, perché sarebbe veramente il tema di un'altra serata, però chi aveva scelto la lotta armata negli anni 70, l'aveva scelta perché? Perché si considerava, forte di quelle teorie marxiste, leniniste, l'avanguardia di un movimento, un'avanguardia di classe, e siccome per essere conseguenti a quella teoria, che erano teorie che poi, ripeto, uno va a leggere Marx, va a leggere Lenin, va a leggere Mao, ci trovi quello, cioè ci trovi, e lo ritrovavamo infatti nei famosi slogan, fascisti borghesi ancora pochi mesi, oppure la rivoluzione nasce dalla canna del fucile, cose di questo genere, che erano stati urlati negli anni precedenti. Questi, quelli che fanno la scelta armata negli anni 70, diciamo, sono quelli che si autonominano in qualche maniera a avanguardia. La lotta armata, chi sceglie la lotta armata dalla campagna di primavera, cioè da Moro in avanti, è una scelta quasi di disperazione, perché si vedono alle spalle un movimento che si sta dissolvendo, praticamente si voltano e c'è poco più che qualcuno. E, diciamo, prendono questa strada, ma adesso, così come l'ho aperta, la chiudiamo, perché, ripeto, il discorso sulla lotta armata meriterebbe tutt'altro discorso. Andiamo a vedere, invece, che cosa succede nel mondo. Il neoliberismo reganiano e tacceriano che avanza, che è una devastazione soprattutto per il mondo del lavoro. incominciano a chiudere fabbriche, ma proprio di brutto, cioè la disoccupazione aumenta in maniera sconsiderevole. La riduzione dei diritti, perché è chiaro, se tu fai un'azione, tipo quella di chiudere una fabbrica, non puoi lasciare gli stessi diritti che avevi prima di ribellarti a quella chiusura, a quella lotta. Quindi riduci i diritti. Il taglio alla spesa pubblica, quindi tutte le conquiste varie che il movimento, nel senso più generale del termine, movimento sociale, movimento operaio, movimento studentesco, era andato via via conquistando, comincia a essere ridotto, perché non va più bene, non funziona più. La scuola, per esempio, per citarne una, che fu negli anni 70 appunto un coacervo di tantissime cose, in positivo e in negativo, adesso io non sto entrando appunto, spero che capiate, non sto entrando tanto nel merito delle cose e che meriterebbero ciascuna veramente delle trattazioni a sé stanti, però la scuola era diventata qualche cosa d'altro rispetto a quella che era la scuola degli anni 70, una scuola di massa, una scuola certamente più aperta, tutta una serie di tematiche, eccetera. Si taglia la spesa pubblica, si tagliano le spese per le scuole, si taglia le spede ospedaliere, il mondo ospedaliero, altro punto nevralgico delle lotte degli anni 70, inizio delle privatizzazioni, prosegue in maniera sempre più accentuata la frantumazione della fabbrica, la delocalizzazione, il termine delocalizzazione diventa un termine di uso quotidiano, che significa molto semplicemente chiudo qui per aprire nel terzo e nel quarto mondo, dove so che con una pagnotta avrò il risultato che fatto qui in Occidente e fatto in Italia gli avrebbe avuto dei costi, per me padrone, elevatissimi. Le guerre ormai diventano all'ordine del giorno, nessuno se ne stupisce più. I fascisti nel frattempo vengono sdoganati, grazie a Pannella e a Craxi, già alla fine degli anni 70, ci si comincia a domandare ma perché? In fondo sono passati tanti anni, perché considerare ancora quelli del movimento sociale italiano eredi del fascismo, sono a tutto titolo parte integrante del famoso schieramento democratico nazionale. E così arriviamo agli anni 90. Anni 90, prima guerra del Golfo, fortissima reazione del movimento, movimento pacifista e soprattutto anti-Bush, Bush padre. Il terzomondismo si sviluppa in maniera esponenziale, soprattutto la solidarietà con il mondo dell'immigrazione, che viene ormai capito, concepito appunto come frutto di tutti i danni, di tutti i guasti che il nostro sistema ha fatto precedentemente. L'ecologismo si sviluppa, nasce il movimento No Global con Seattle, il movimento si fa più radicale, infatti a Seattle cominciano i primi scontri di piazza, che seguiranno poi con Gothenburg, è la prima vittima diciamo di questo movimento. Però il movimento nel suo insieme cosa dice? Sì, però quelle sono frange estremiste, il movimento in realtà è pacifista, ecologista, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa sorta di distinguo e incomincia questo dibattito su violenza sì, violenza no. Nel frattempo cosa succede? La globalizzazione avanza in maniera incredibile. La delocalizzazione ormai è un dato, diventa un dato di fatto. La disoccupazione è un elemento indiscutibile di tutte le società occidentali, perché in questo caso non stiamo più parlando solo dell'Italia, parliamo di tutto il mondo occidentale. I fascisti ormai totalmente metabolizzati ce li ritroviamo al governo, il primo governo nel 94 e poi a venire. E soprattutto che cosa avviene? Il grande passaggio, la grande scoperta che segue appunto l'intuizione di Pannella e Craxi negli anni 70, ma in fondo siamo stati tutti uguali. Certo c'erano i morti della resistenza, ma c'erano i ragazzi di Salò, e l'uso della termine ragazzi non è casuale. I ragazzi di Salò contro i partigiani, erano tempi di guerra, quindi ahimè si facevano delle scelte, ma adesso, per l'amor di Dio, sono passati decenni, riappacifichiamoci tutti. E questo, ahimè, ahimè, è una tesi che è stata sostenuta ancora dalla cosiddetta sinistra. Arriviamo al 2001. Il movimento no global cresce in maniera incredibile, soprattutto cresce in forma interclassista, tant'è che quando arriveremo a Genova sfileranno insieme dalle suore ai black bloc. E infatti a Genova però che cosa succede? Il movimento è molto forte. Adesso senza entrare in tutte le analisi su Genova, non Genova, Berlusconi, eccetera, comunque il sistema di fronte ad un movimento che da mesi prometteva di in qualche maniera interrompere o comunque incidere sul G8, reagisce come reagisce. E come reagisce? Reagisce con il massacro, come sappiamo. E appunto, ripeto, cinque anni fa, a quest'ora, probabilmente, adesso non mi dico, oggi è il 23, 23 era la domenica, se non vado a rato, ma comunque, cinque anni fa succedeva il massacro che è successo a Genova con l'assassinio di Carlo Giuliani. Anche lì, che cosa succede? Succede, alcune, ci sono degli scontri, ci sono delle reazioni, alcuni sono direttamente gestiti dalle forze dell'ordine, come ormai è provato da filmati, foto di agenti travestiti da black bloc. Però succedono anche degli scontri causati dal movimento black bloc che, in qualche maniera, in forme di cui, appunto, anche di questo, adesso non entro nel merito di dare dei giudizi, comunque esprime una rabbia per un qualche cosa che è ormai assolutamente ingestibile, inaccettabile. Inaccettabile, come sono inaccettabili le guerre, le guerre che vengono portate in nome della cosiddetta civiltà occidentale nei confronti dell'Iraq o nei confronti del mondo arabo in genere, la criminalizzazione del mondo arabo. Tutto questo, contro tutto questo, il movimento no global si rifiuta, cioè si oppone, e all'interno di questa opposizione, come è ovvio, c'è anche chi questa opposizione non la vive solo come testimonianza con le mani bianche alzate verso il cielo, come sentivamo prima, per dire i ragazzi di Radio Gap, ma reagisce con la cosiddetta violenza. E anche lì si sviluppa questo dibattito che è in corso ancora oggi su violenza sì, violenza no. Arriviamo allora alla fine di questa brevissima e lunghissima, nello stesso tempo, di questo bellissimo riesame di questi anni. Quali sono le differenze allora tra ieri e oggi? Diciamo, come dicevamo prima, partiamo da casa nostra, che i fascisti in Italia non avevano voce, non avevano la possibilità di scendere nelle piazze. Quando riuscivano a farlo era perché le forze in campo erano troppo dispari, troppo impari, per cui non ce la facevano. Ma io, per dire, ho vissuto quella stagione a Milano e vi garantisco che a Milano un fascista, una piazza, non l'ha mai avuta per tantissimi anni. Non solo. Forti della tesi dell'antifascismo militante, ovvero sia che il fascismo in Italia non dovessero avere, non solo le piazze, ma non dovessero avere proprio spazi, sulla base dello slogan le sedi fasciste si chiudono col fuoco, le sedi fasciste venivano chiuse. Gli operai e le fabbriche. Oggi il movimento operaio, come abbiamo visto, a fronte della frantumazione che c'è stata, è praticamente, non dico inesistente, ma certamente fortemente indebolito. All'epoca, il movimento operaio era una realtà assolutamente forte, che faceva paura. Non era immaginabile una chiusura di uno stabilimento, il licenziamento di centinaia di persone, così d'amblè da un giorno con l'altro. Nascevano lotte, occupazioni di fabbrica, ma non solo degli operai coinvolti nell'eventuale chiusura, nell'eventuale licenziamento. Scioperavano alla Mirafiori di Torino, automaticamente scioperavano i tessili, scioperavano altri ambiti dell'industria, cioè il movimento operaio era forte, era compatto ed era questo che faceva paura. Il diritto alla casa, oggi si sgomberano i disperati, i disperati che vanno magari ad occupare case che sono sfitte, che non servono a niente, a nessuno, vengono sgombrati. Una volta, il movimento per le case, il diritto alla casa, era un movimento molto forte, c'erano addirittura quartieri interi che si mobilitavano. Io posso portare gli esempi a Milano del quartiere Garibaldi e del quartiere Gallaratese, dove interi quartieri interi quartieri sono rimasti occupati per mesi, mesi. Entravi in questi quartieri e ti sembrava di entrare in un'altra realtà perché c'erano bandiere rosse alle finestre, striscioni, slogan da tutte le parti e a quel movimento per le case nei momenti di lotta dava la sua partecipazione il movimento studentesco, il movimento operaio, eccetera, eccetera, eccetera. C'era appunto questo che stavo dicendo, la collaborazione tra realtà diverse che coinvolgeva il movimento con gli intellettuali, gli intellettuali che fossero letterati, poeti, cineasti, registi teatrali, eccetera, ma c'era un quacervo di forze molto molto attivo. Cos'era l'anello di congiunzione tra tutte queste realtà? Era quello che ho chiamato la militanza attiva, ovvero sia, che cosa significava la militanza attiva? significava conquistare e difendere i propri diritti anche con la forza se necessario, cioè anche a costo di scontrarsi duramente e anche a costo della vita come è in me molta molta gente ha fatto nel corso di questi anni, contro chi? Contro chi quei diritti negavano. Oggi, torniamo adesso, torniamo all'oggi, io credo che se si deve cogliere una differenza tra le molte similitudini sia in negativo che in positivo tra gli anni settanta e gli anni e il nuovo millennio, chiamiamolo così, stia proprio qui, ovvero sia, ci sono tante forme di resistenza e come dicevo prima, a volte addirittura più concrete, più attive, più incidenti sotto certi aspetti, però secondo me l'elemento che manca è la coesione tra queste realtà. perché anche il movimento No Global si riunisce appunto nei vari incontri internazionali ma io almeno non percepisco, non sento leggendo anche le cose, le email, i social forum, eccetera, non leggo, non riesco a leggere tra le righe questi anelli di congiunzione che fanno sì che se oggi sgomberano il disperato non sia solo il centro sociale della zona o dell'area ad intervenire ma dovrebbero essere tutte le realtà che una volta intervenivano. Oggi tutto questo non c'è, le fabbriche chiudono, le fabbriche chiudono, la gente è sempre più disperata perché non ha lavoro ma non c'è una reazione forte contro questo, ci sono i disperati, chi viene toccato in prima battuta da queste iatture che appunto i nostri governanti ci stanno regalando, nostri perché sono di tutti i paesi occidentali ma non c'è una reazione forte e lì c'è l'amarezza di sapere che oggi c'è questo movimento globale, ci sarebbe la possibilità di azioni molto più forti perché come si diceva anche negli anni 70 comunque a guardare bene la maggioranza saremmo noi, non sono gli altri che decidono, non è il potere la maggioranza, la maggioranza siamo noi, purtroppo ci fanno vivere e in fondo abbiamo interiorizzato la nostra minoranza, la nostra minorità, cosa che è un falso, è un falso storico che però è diciamo in qualche maniera attuato da tutte le forme di comunicazione, non riusciamo a cogliere la nostra forza. Ecco, io direi che queste sono secondo me un pochino le differenze e la domanda che posso porre invece a chi oggi appunto lavora nel concreto a differenza di me appunto in queste che sono chiamate nuovamente nuove resistenze perché nuova resistenza era anche quella degli anni 70 vorrei capire cioè vorrei sentire il loro parere su questa mia valutazione di mancanza di questa militanza attiva. Allora intanto ringraziamo Romano Giuffrida per questa panoramica dettagliatissima che ci ha fatto. ecco quindi a proposito di nuove resistenze quindi queste nuove forme di resistenza di cui lui parlava che sono diverse hanno degli aspetti diversi e per un verso anche molto più incisivi di quelle degli anni 70 degli anni 80 e sicuramente una di queste nuove forme di resistenza così incisive che quindi porta dei risultati porta a casa dei risultati notevoli è ad esempio la cooperazione internazionale quindi il mondo il vasto mondo delle ONG che operano ad esempio nei paesi di guerra e che quindi aiutano la gente martoriata dalle guerre soprattutto le ultime guerre volute da Bush dunque qui noi abbiamo una una ragazza di emergency che si chiama Maura che adesso arriva che ci racconta che cosa che cos'è per emergency che cos'è resistere all'occupazione militare quindi alla povertà alle ingiustizie alla disuguaglianza che l'occupazione militare provoca nelle terre appunto invase quindi dall'Afghanistan all'Iraq e via dicendo e poi chiediamo anche a Maura se prova a rispondere a questa domanda che buttava lì Romano Giuffrida cioè su questa mancanza di anelli di congiunzione ma innanzitutto appunto che cos'è resistere per emergency allora innanzitutto l'esperienza di emergency inizia nel 94 con 12 milioni raccolti quasi per caso in maniera estremamente fortunosa e una piccolissima missione in Ruanda allora c'era una guerra sanguinosa tra gli Utu e i Tutsi non so se ricordate è stato un massacro terribile in questi 11 anni di esperienza emergency ha conosciuto una guerra che assolutamente non è quella che si pensa e si immagine che assolutamente non risponde all'immagine classica che si ha della guerra non so se io penso a un'immagine della guerra mi vengono in mente due eserciti con delle divise che si scontrano in un campo delimitato e alla fine esistono dei vinti e dei vincitori e alla fine dopo la fine della guerra esiste un dopoguerra in cui si ricostruisce la guerra di oggi assolutamente non è così questo discorso poteva essere valido più o meno fino alla prima guerra mondiale dalla seconda guerra mondiale in poi e non sto parlando di una conseguenza del tecnica sto parlando di teorie militari codificate quindi è un obiettivo l'obiettivo si pensa che piuttosto che combattere l'esercito della nazione nemica sia molto più facile fare in modo che la nazione nemica non abbia i mezzi per sostenere l'esercito che questo garantirà assolutamente una vittoria certa e questo concretamente vuol dire colpire l'economia del paese che si va a combattere e questa che sembra una cosa così molto molto poco concreta in realtà ha due ordini di conseguenze estremamente importanti la prima è che cambiano gli scenari in cui si combatte non si combatte nei campi di battaglia si combatte laddove la ricchezza viene costruita questo vuol dire laddove ad esempio nei campi coltivati perché chiaramente i paesi che si combattono sono paesi estremamente già poveri in partenza quindi minare l'agricoltura di un paese che come può essere la Cambogia la cui economia si basa sulla produzione del riso chiaramente è mettere in ginocchio la nazione si distruggono le infrastrutture di questi paesi sia le strade ad esempio sia si colpiscono gli ospedali questi paesi hanno dei sistemi sanitari completamente inesistenti e soprattutto si combatte nelle città laddove vivono i civili infatti la seconda grossa conseguenza dell'adozione di questa strategia sono le vittime il cambiamento dell'identità delle vittime delle guerre se si osservasse il rapporto tra vittime combattenti e vittime civili e per combattenti intendo tutti quelli che imbracciano un fucile combattono quindi non i soldati che fanno parte di un esercito regolare ma anche nella parola combattenti in realtà sono compresi una parte dei civili appunto se si osservasse il rapporto tra le vittime civili e combattenti negli anni tra il 1900 e il 1990 si osserverebbe che il rapporto tra le due è completamente invertito in particolare nei trentenni che vanno dal 1900 al 1930 le vittime combattenti superano di gran lunga le vittime civili tra il 30 e il 60 arrivano ad equipararsi tra il 60 e il 90 sono assolutamente invertite è una cosa che io faccio notare che abbiamo sempre un grafico che spiega questa situazione è che le vittime civili le vittime combattenti di oggi sono molto meno delle vittime civili di allora per dare dei numeri nelle guerre di oggi il 93% delle vittime sono civili e il 7% militari e non è una una conseguenza sono un obiettivo i famosi effetti collaterali per me il significato della parola effetto collaterale è quello di una cosa che succede casualmente e che non è funzionale al mio scopo mentre colpire un civile è funzionale allo scopo di colpire l'economia perché non sono i militari che producono l'economia della nazione sono i civili quindi diventano l'obiettivo principe chiaramente per raggiungere questo scopo un partner fantastico sono le armi di distruzione di massa che sono appunto state introdotte nella seconda guerra mondiale non si parla solo di grosse armi come possono essere i bombardamenti aerei ma si parla di armi molto piccole principe di tutte queste sicuramente la mina anti uomo che è l'arma perfetta per combattere questo tipo di guerre primo perché non costa assolutamente nulla al paese che la produce mettere posare una mina e produrla e posarla costa tra i 5 e i 12 euro più o meno sminare costa tra gli 800 e i 1000 a mina e questo pesa su un'economia di un paese assolutamente già in ginocchio in più non consumano niente rispetto a un esercito Pol Pot diceva che era un dittatore cambogiano diceva che le mine sono il miglior soldato perché non dormono non mangiano e stanno sempre all'erta ed è vero e poi possono essere posate ad hoc cioè nel senso sono costruite con degli obiettivi specifici penso che tutti abbiate sentito parlare delle mine giocattolo dei pappagalli verdi che sono fatte apposta per colpire i bambini quando dicono che le ali con cui si posano a terra e che non le fanno esplodere sono fatte per motivi aerodinamici e però ne vengono prodotti modelli fluorescenti a pua estremamente colorati hanno pochissimo esplosivo perché le mine non sono fatte per uccidere nella maggior parte dei casi sono fatte esclusivamente per mutilare e anche qui qual è la logica che si sta dietro che è estremamente cinica però è realistica in una maniera incredibile un morto purtroppo si piange però non costa niente mentre un ferito è una persona carico di una famiglia che è già in gravi condizioni quindi non solo lui non può aiutare ma diventa assolutamente un peso quindi in più ci sono tutti gli effetti a lungo termine perché una mina una volta posata soprattutto dopo l'introduzione della plastica dura anche 50 anni attiva quindi e non sono solo gli effetti nel senso che durano molto le mine ma effetti a lungo termine nel senso che sono uno strumento fatto per far vivere nel terrore quindi creano della paura delle situazioni tali per cui hanno degli effetti incredibili ci sono dei disegni dei bimbi che hanno subito un incidente con una mina che sono impressionanti disegnano i vari modelli di mina come noi potremmo disegnare come un bambino dei nostri che vive nei nostri paesi potrebbe disegnare i vari modelli delle macchine cioè fanno talmente parte della loro realtà che le conoscono benissimo quindi la mina è lo strumento principe per combattere questo tipo di guerra l'attività di emergency si inserisce come resistenza a questo tipo di guerra perché l'attività cerca di stravolgere di stravolgere completamente questo questo tipo di logica allora il primo modo in cui si resiste a questo tipo di guerra è cercando di sopravviverle da qui il primo modo e l'attività di emergency principale è la costituzione dei centri che fanno chirurgia di guerra ad oggi ne sono sette costruiti in Iraq Cambogia Afghanistan e Sierra Leone e tre che sono invece attualmente in costruzione con varie vicende perché uno ad esempio è in costruzione in Iraq a Kerbala chiaramente con la guerra la costruzione è stata enormemente rallentata anche perché l'impresa di costruzione era curda e quindi c'erano stati notevoli problemi l'altro centro in costruzione è in Sudan invece che è un progetto molto bello perché ha uno scopo che va oltre sarà un centro di cardiochirurgia che uno si chiede perché fare della cardiochirurgia in Sudan e invece sono moltissime le conseguenze cardiache e delle febbri reumatiche che si prendono molto facilmente in quei paesi ma sarà un centro molto grosso che avrà lo scopo oltre di fare della chirurgia di promuovere la cooperazione tra le popolazioni africane perché si propone di essere un ospedale non solo per le popolazioni del Sudan ma anche per gli stati che gli stanno accanto e il terzo centro invece in costruzione è quello nello Sri Lanka nella regione Tamil in seguito allo tsunami chiaramente lì non sarà proprio un centro chirurgico perché non c'era così bisogno però sarà più la ricostruzione di un paese e il centro medico annesso quindi il primo modo di resistere alla guerra è la sopravvivenza il secondo modo è cercare di far fronte a questa distruzione delle infrastrutture che si diceva e questo avviene in due modi la prima è adattare la chirurgia e l'assistenza medica che viene fatta alle esigenze locali nel senso anche nell'ottica che i centri chirurgici di emergency verranno poi quando i tempi saranno maturi completamente donati alle autorità locali del paese ad esempio i due centri grossi del nord dell'Iraq che sono i primi ad essere stati costruiti sono dal primo maggio completamente passati in mano all'autorità kurda c'è stato cioè l'autorità non so se locale il governo iracheno comunque c'è stato un primo sopralluogo a un mese dal passaggio e l'attività innanzitutto si è mantenuta gratuita perché gli ospedali vengono costruiti secondo degli standard che sono assolutamente che abbiano dei livelli di prestazione occidentale perché nella logica che non solo perché siamo nel terzo mondo sia giusto fare una sanità da terzo mondo quindi degli ospedali in cui tranquillamente potremo essere ricoverati anche noi o i nostri figli secondo che offrano delle cure gratuite alle popolazioni locali perché la sanità in questi paesi non è che non c'è ma si paga tutto dalla siringa all'operazione chirurgica al passo in ospedale quindi chiaramente nelle popolazioni povere non se lo possono assolutamente permettere il terzo criterio assolutamente importante è che siano costruiti in accordo con le autorità locali quindi qualsiasi sia il governo del paese qualsiasi sia l'autorità in quel momento vigente emergency stipula degli accordi non si va ad invadere ma si va a collaborare e questo viene fatto assolutamente anche per garantire la sicurezza degli operatori perché chiaramente nel momento in cui si invade si è anche più a rischio di essere invasi infatti la quarta caratteristica dei centri è che sono assolutamente zone demilitarizzate nessuno entra con le armi le armi vengono lasciate alla porta e questo è un criterio che è stato più o meno rispettato ci sono stati un paio di incidenti però in seguito gli ospedali sono stati chiusi e poi rieperti quindi per far fronte a come dicevo prima alla mancanza di sanità a livello locale si cerca di evolvere dalla chirurgia di guerra a quali sono le reali esigenze del paese ad esempio nel nord dell'Iraq nei due centri in cui dicevo prima un problema grossissimo è quello della cura delle ustioni per la mancanza di sicurezza delle stufe che vengono utilizzate per cucinare nelle case quindi un gran numero di bambini perché si cucina per terra un gran numero di donne perché purtroppo l'ustione viene spesso utilizzata come metodo per tentare il suicidio viste le condizioni in cui sono costretti a vivere ecco in questi due centri chirurgici sono stati creati due unità ustionati sia pediatriche che adulte o ad esempio in un grosso problema della della Cambogia ad esempio la chirurgia ortopedica ricostruttiva perché ci sono una serie di malformazioni quindi in quel contesto si fa chirurgia autopedica e ricostruttiva quindi si cerca in qualche modo di far fronte a questa mancanza di infrastrutture e poi la mancanza di infrastrutture nel senso di strade ad esempio che senso ha costruire tre grossissimi centri chirurgici su dei territori vastissimi e poi morire perché si ha una ferita stupidissima però non si riesce ad arrivare in tempo in ospedale per la mancanza di strade e si muore per un'infezione quindi sono state create una serie di posti di primo soccorso o FAP che hanno lo scopo di coprire il più ampio territorio possibile e dare una tamponare sull'emergenza stabilizzare la situazione per poi essere trasferiti nel centro grosso invece dove si riceveranno tutte le cure adatte quindi resistere nel senso di sopravvivere nel senso di cercare di far fronte alla mancanza di infrastrutture e il terzo punto grosso è quello di cercare di stravolgere la distruzione dell'economia che viene fatta e questo viene fatto principalmente in due modi sia all'interno degli ospedali che all'esterno all'interno perché sia a livello di personale sanitario che non sanitario viene impiegato il più possibile personale locale innanzitutto perché è una risorsa nella mediazione con i pazienti chiaramente anche perché si parla di paesi la cui cultura è estremamente diversa dalla nostra e poi per dare a queste persone la possibilità di costruirsi un futuro che sia alternativo alla guerra ad esempio secondo me è bellissimo del personale kurdo che è stato formato in nord Iraq viene utilizzato come personale internazionale in Afghanistan che voi immaginate che ricchezza può essere perché chiaramente la cultura kurda è molto più vicina alla cultura afghana rispetto alla nostra quindi la formazione del personale locale anche sempre nell'ottica appunto che gli ospedali resteranno alla popolazione quindi si dà loro la possibilità di si far arrivare a un livello tale che possano mantenere le cure al livello a cui venivano date all'inizio al di fuori degli ospedali invece questo tipo di percorso viene fatto con la creazione di una serie di progetti sociali che allora passa sia attraverso dei centri soprattutto rivolto ai feriti da mina sono stati creati dei centri di riabilitazione e reintegrazione sociali che sono dei centri in cui innanzitutto viene insegnato a questi pazienti a prendere confidenza con le protesi e ad usarli proprio sono dei centri in cui sono ricreati gli ambienti gli si insegna a camminare perché anche qui non essendo un conto è dire avere una protesi e uscire camminare su una strada asfaltata un conto è dire avere una protesi e avere un terreno completamente dissestato doversi arrampicare su una montagna quindi vengono ricostruiti gli ambienti si fa fisioterapia e si insegna a queste persone a convivere con la nuova realtà perché purtroppo la ferita da mina è una ferita che rimane addosso per il resto della propria vita quindi sia attraverso dei centri sia invece no sono state create nel nord dell'Iraq e in Afghanistan dei progetti sociali che consistono ad esempio nella creazione di cooperative viene dato all'inizio un incentivo viene insegnato a queste popolazioni a gestire ad esempio sono stati creati dei negozi di sementi e poi vengono lasciate da sole in modo che possano in un qualche modo conquistarsi un futuro che sia alternativo alla guerra perché spesso in questi paesi si crea un circolo vizioso tale per cui l'unico modo per andare avanti è quello di fare il soldato perché non c'è un altro lavoro disponibile non c'è un altro lavoro che si conosce ad esempio in Afghanistan è stato fatto un progetto bellissimo è stata messa in piedi una fabbrica di tappeti recuperando una tradizione da un progetto rivolto soprattutto alle vedove raccontavano che hanno avuto dei problemi che neanche ci si immagina ad esempio all'inizio hanno dovuto convincere gli uomini del villaggio a lasciare lavorare le donne dopo questo gran lavoro che è stato fatto è stato ottenuto si è posto il problema di far firmare un contratto e nessuna di loro sapeva scrivere allora si è pensato di fare una foto ad ognuna di loro però levarsi il burca ci doveva essere un fotografo che fosse una donna allora si è arrivati ad avere il fotografo don poi c'è stato il momento in cui si doveva far capire a queste persone che avendo un contratto si doveva rispettare le regole che erano scritte nel contratto quindi mantenere dei certi certi tipi di orari certi ritmi di lavoro niente di allucinante chiaramente però non è che anche per tutolare loro alla fine si è riusciti sono stati prodotti dei tappeti bellissimi che sono stati portati in Italia e venduti al mercatino di Natale che si fa ogni anno a Milano e è bellissimo perché su ogni tappeto è ricamato un logo di emergency più o meno di queste dimensioni con la scritta in inglese e in arabo e un altro logo con tutti i nomi in arabo delle donne che hanno contribuito a produrre quel tappeto e sono veramente veramente splendidi quindi insomma questo per stravolgere l'economia e il quarto modo di fare resistenza si riallaccia al discorso che si faceva prima perché la resistenza fondamentalmente nasce dalla conoscenza quindi si fa controinformazione in due modi essenzialmente la diffusione di una cultura di pace che si fa in Italia attraverso i volontari e attraverso campagne specifiche come quella che ha portato la messa al bando delle mine anti-uomo in Italia oppure a tutta l'attività nelle scuole che facciamo è stata fatta attraverso la creazione di un quotidiano online che è nato come collaborazione tra Emergency e la Misna che è una delle maggiori agenzie di stampa italiane è partito come collaborazione adesso è un progetto che cammina assolutamente indipendente da Emergency ma il giornale si chiama Piste Reporter è consultabile online ci sono notizie aggiornate dal mondo ogni giorno ad ogni ora ma ora inevitabilmente ci ha parlato di guerra delle nuove guerre perché è lì che opera Emergency nei paesi come l'Afghanistan come l'Iraq in paesi che sono stati attaccati militarmente negli ultimi anni negli ultimi 10-20 anni ecco e ci ha ovviamente parlato anche delle conseguenze devastanti che sulla popolazione civile hanno queste guerre c'è un'altra però conseguenza non meno devastante che è una conseguenza planetaria e che innegabilmente deriva poi da quelle guerre insomma delle guerre dalle guerre di Bush e dalle guerre volute da Bush volute da Blair e anche dai nostri e via dicendo che è un aumento come purtroppo stiamo avendo modo di vedere in questi giorni ieri l'ultimo l'ultimo episodio terribile del terrorismo internazionale di matrice islamica ecco gli episodi più recenti sono appunto come sapete tutti ieri sera l'attentato a Sharm el Sheikh in Egitto e pochi giorni fa l'altro ieri un attentato di minore entità a Londra e qualche giorno fa quello invece ben riuscito purtroppo di Londra con più di 50 morti ora in quell'occasione io adesso vorrei che Maura ci leggesse il comunicato stampa che ha fatto emergency proprio in occasione degli attentati di Londra perché è molto bello quindi le ripasso il microfono perché lei ce lo legge allora si intitola Oltre ogni violenza è davvero un'ottica limitata alla nostra se il primo pensiero che ci ossessiona senza lasciare posto ad altre considerazioni al pensiero delle vittime e molte persone che a Londra questa mattina hanno incominciato una giornata che non concluderanno sono per noi la prima fondamentale verità di ciò che abbiamo sentito e vissuto oggi troviamo lontane da questa verità le considerazioni sulla contiguità con il G8 sull'attacco ad un paese così fortemente impegnato nella guerra di LAC sulle analogie con gli attentati terroristici a Madrid sentiamo inadeguati gli annunci che non prevarranno che la guerra al terrorismo proseguirà con maggiore slancio che infine noi vinceremo cessa di essere sensata ogni ripetizione di parole già dette e sentite vuote e sterili se ci hanno condotto di fronte allo spettacolo cui oggi assistiamo se persistiamo nel sentirci una parte dell'umanità contro un'altra alimentiamo uno scontro infinito un'interminabile sequenza alternata di reazioni e controreazioni di assassini e di sofferenze forse il dolore ispira più saggezza di quanta possa suscitarne l'indignazione il dolore per le vittime del terrorismo e della guerra delle bombe e dei bombardamenti allo stesso non muta al variare dei soggetti che più direttamente lo provano se detto oggi siamo tutti londinesi se ci sentiamo anche tutti iracheni o afghani o ceceni forse intravederemo una diversa direzione per uscire da questa assurdità un cammino opposto a quello di una guerra infinita vincere il terrorismo rifiutando ogni violenza è il solo percorso possibile contrastarlo con mezzi che gli somigliano è una strada senza uscita lo insegna l'idea che abbiamo di umanità sempre di più lo insegna l'esperienza allora dunque io propongo comunque una inevitabile riflessione su quello che sta accadendo in questi giorni quindi su sull'Egitto su Londra che non è poi così lontana insomma dal tema di questo dibattito perché qui si parla di resistenza alle occupazioni militari si parla di una delle nuove forme di resistenza come appunto resistenza all'occupazione militare resistenza all'imposizione di insomma di una guerra voluta soltanto da pochi contro il volere di tanti altri una criminalizzazione del mondo arabo e via dicendo allora qui naturalmente questo è una è una discussione che è aperta a tutti quindi a chiunque voglia intervenire per dire qualcosa anche per fare una domanda ma io chiamerei qui Andrea Merighi che è il portavoce della comunità islamica di Ferrara non mi ricordo più il tuo nome ti chiedo scusa Stefano che è responsabile dei diritti civili del PDC Stefano Pieralli ti chiedo veramente perdono chiedo scusa anche a voi il quale insomma ci spiega affronterà cercherà di affrontare lo stesso tema da un punto di vista più geopolitico soprattutto politico visto che è un esponente del PDC intanto io passo la parola ad Andrea Merighi buonasera buonasera a tutti è piuttosto difficile parlare in questi momenti per noi che come credenti siamo in qualche modo viviamo doppiamente questo tipo di tragedie cioè sentiamo il dramma del fatto che venga recisa anche una sola vita umana in questo caso tantissime vite umane e sentiamo avvertiamo e subiamo l'ulteriore dolore e violenza in quanto diciamo questo tipo di stragi di attentati viene appiccicata impropriamente come spero che voi possiate capire il nome dell'islam o comunque di una religione in generale ma nella fattispecie dell'islam che è di per sua natura una religione di pace la parola islam viene anche dalla radice di salam che significa appunto pace shalom in ebraico ma al di là di tutto parlare ora oggi in questo momento qui ed ora di islam come religione di pace mi rendo conto che possa sembrare nostro malgrado forse anche in parte per colpa nostra piuttosto paradossale mi veniva in mente invece per così introdurre la serata insomma il mio discorso mi veniva in mente mi voleva agganciarmi in maniera molto breve a quanto diceva prima la ragazza di emergency in cui io non mi ricordo il nome e ti chiedo scusa ma ora di emergency e cioè relativamente al nuovo approccio e dei relativi che concerne i danni i cosiddetti danni collaterali e quindi tutto l'approccio che c'è dietro le nuove guerre le nuove forme di guerra quando nelle mi è venuto in mente quando parlavo del Sudan quando nell'estate del 98 mi sembra in agosto ci furono due attentati molto grossi a dare salame in Nairobi cioè in Tanzania e in Kenya contro due ambasciate americane che tra l'altro aspetto di cui non si è parlato finora quasi sempre in questi casi le vittime non sono mai non appartengono mai il cosiddetto nemico da colpire ma sono sempre vittime locali come anche Sherman Sheik peraltro lì dopo ne possiamo parlare l'allora cosa fece Clinton allora il presidente degli Stati Uniti era Clinton che quindi aveva un'aura molto diversa da Bush Junior ed era anche molto più presentabile per certi aspetti anche più simpatico forse cosa fece fece due azioni immediate bombardò l'Afghanistan un campo militare e bombardò una fabbrica di farmaci in Sudan l'amministrazione disse statunitense che in quella fabbrica si producevano armi chimiche poi in realtà era una fabbrica in cui operavano anche dei tecnici chimici tedeschi i quali riuscirono a smentire questa tesi e dimostrare ampiamente che quella era una fabbrica di un'industria farmaceutica e quindi serviva a sostenere quel paese quindi colpire in quel momento significava indebolire fortemente la già debole struttura chimico farmaceutico sanitaria di quel paese ma questo è indicativo di un atteggiamento molto chiaro gli Stati Uniti poi furono costretti a chiedere scusa ma di fatto l'azione era già successa sarebbe come tanto per fare un parallelo se ricordiamo tutti la strage di Firenze l'attentato all'Accademia dei Giorgofi che fu opera in qualche modo di una strategia stragista mafiosa sarebbe come se lo Stato rispondendo a questo tipo di attentato facesse saltare in aria una palazzina abitata da albanesi e dicesse ma questi qui stanno in qualche modo favorendo la prostituzione poi si scopriva che erano operai albanesi come peraltro la maggior parte degli albanesi presenti nel nostro territorio che sono onestissimi lavoratori però questa è la logica veniamo colpiti e noi colpiamo un'altra cosa perché comunque sono tra i cattivi noi dobbiamo prevenire questo tipo un ipotetico pericolo futuro ciò che sta accadendo ora nel mondo è estremamente complesso è di difficile lettura ci sono però dei fatti poi magari poi ci rimbalzeremo con l'amico del PDC Stefano che è una cappa che ha legge in questa sala ogni tanto suona anche il pendolo quindi effettivamente anche noi abbiamo dormito poco questa notte come forse molti di voi seguendo le notizie personalmente ho dormito molto poco è molto difficile c'è una grande differenza ad esempio tra quanto è accaduto a Sharm el Sheikh che non è Sharm el Sheikh Sharm el Sheikh si pronuncia e Londra Sharm el Sheikh si è voluto colpire in una strategia che peraltro dura parecchi anni c'era stata una pausa speranzosa ma si colpisce sostanzialmente il governo egiziano colpendo e il paese egiziano ma in qualche modo il governo colpendo quella che è una principale risorsa di un paese potenzialmente molto ricco ma di fatto molto povero che è il turismo un paese di oltre 70 milioni di abitanti che vede nel turismo una fonte preziosa di entrata e di benessere colpendo questo tipo colpendo a Sharm el Sheikh al di là del valore simbolico del fatto che in quella località poi si siano tenuti si tengono colloqui bilaterali tra Israele e i paesi arabi o comunque in generale colloqui che riguardano il problema della lotta a terrorismo al di là del valore simbolico si colpisce però di fatto il governo e lo stato e lo stato egiziano poi si può anche vedere successivamente per quale motivo a Londra e altrove succedono altre cose però vorrei tornare un attimino indietro negli anni negli anni 90 per dare una chiave per citare alcuni fatti che possono dare una chiave di lettura a quanto accade relativamente a quello che diceva Giuffrida prima mi ricordo meglio il cognome Renato qualcosa del genere Giuffrida prima manca un elemento che credo che poi lui non abbia volutamente inserito proprio perché se no si apriva un altro che finestra cioè il fatto che poi nell'89 c'è il crollo del muro di Berlino e al di là di ciò che questo comporta nella pratica poi in qualche modo è la porta in cui si apre il nuovo disordine mondiale da un ordine assolutamente discutibile di guerra fredda di doppio schieramento in cui il mondo arabo-islamico in qualche modo era diviso più o meno come sono scacchiere internazionale con paesi di aree di influenza sovietica poi si diffuse anche il socialismo e ci furono gruppi comunisti partiti comunisti nel mondo arabo e invece paesi che guardavano più al movimento della Nato degli Stati Uniti ecco crolla questa realtà questa bilancia che poi abbiamo visto storicamente non era poi neanche tanto giustificato e giustificabile crolla e questo crea in qualche modo una frattura nello scenario internazionale negli anni 90 succedono tre paesi islamici subiscono un attacco molto forte nel 91 si diceva prima l'Iraq la prima guerra del golf del gennaio del 91 e pochi anni dopo la Bosnia-Herzegovina quindi molto vicina ai nostri confini e partendo dal 94 l'Algeria sono tre paesi che molto distanti geograficamente un paio vicino a noi l'Iraq molto meno ma hanno una caratteristica in comune che credo pochi conoscono si è valutato dopo si è capito dopo si è trovato dopo un denominatore comune tutti e tre paesi islamici a varia natura anche se poi la Bosnia riscoprerà l'Islam successivamente era un Islam solo di facciata di nome di passaporto ma non il comunismo era riuscito in questo campo come per essere in Albania a cancellarlo quasi completamente dalla cultura di quel paese tre paesi islamici e soprattutto tre paesi che avevano un rapporto a livello demografico in cui la media della popolazione era molto bassa e una popolazione anziana ridottissima riguardo invece a una gioventù assolutamente di un'entità straordinaria e quindi erano paesi che erano destinati nei decenni a seguire a produrre a produrre un'elite di governo un'elite sociale progressista agganciata in qualche modo alla cultura mediterranea esclusione dell'Iraq e musulmana questi tre paesi subirono un attacco significativo di pochi giorni fa il decennale della strada di Srebrenica di cui tutti abbiamo letto in questi giorni cito brevemente il caso dell'Algeria perché è emblematico e dà anche una chiave di lettura su quanto sta accadendo ora dall'11 settembre in poi anche per capire cos'è questo sedicente terrorismo islamico anzi terrorismo internazionale che poi negli ultimi giorni si è ritornato a chiamare terrorismo islamico in Algeria succede questo il governo ed è già in qualche modo cronaca insomma se ne è già parlato a vari livelli il governo che è di emanazione militare alla fine degli anni 80 capisce vede nota si rende conto che sta montando un movimento islamico nel paese a fronte di una situazione sociale in cui il governo non riesce a in qualche modo a sopperire ai diritti ai bisogni minime della popolazione si sviluppa questo movimento di base che in qualche modo tende a creare strutture periferiche nel mondo sanitario nella scuola nella tutela dei disabili eccetera ed è di matrice fondamentalmente islamica la situazione è però ancora a livello di nebulosa il governo non sa in qualche modo che tipo di entità può avere questo movimento e soprattutto non ne conosce i promotori perché sono delle iniziative in qualche modo spontanee non ancora organiche organizzate a un certo punto il governo algerino non so se di sua come farina del suo sacco o su stimolo esterno ha un colpo di genio ossia il ministro il ministero dell'interno crea il FIS che è il fronte islamico di Salvestri immaginate il ministero dell'interno che crea un partito che poi si dirà fondamentalista questo partito cresce in qualche modo partecipa a tutte le elezioni circosvisionali di quartiere di comune provinciale regionale eccetera arriva alle elezioni politiche ottiene un risultato straordinario si parla del 22% delle preferenze in quel momento viene messo il FIS viene messo fuori legge dal governo che ormai aveva già il quadro completo aveva già la lista di tutti i quadri periferici dei dirigenti eccetera molti di questi verranno messi in prigione anche in Algeria non solo qui in Italia succede molto spesso anche nel mondo arabo-islamico nasce un movimento sedicente il GIE gruppo islamico armato e inizia la stagione delle stragi che guarda caso la maggior parte delle quali sono perpetrate in maniera assolutamente crudele in Algeria assistiamo a episodi di crudeltà inaudita almeno negli ultimi anni tutte le guerre sono crudele ma in Algeria veramente assistiamo a cose ininarrabili guarda caso sono fatti sono perpetrate da quei cosiddetti mujahideen afghani cioè da quelle truppe che combattenti che i servizi segreti americani e la CIA aveva formato in funzione antisovietica in Afghanistan quindi elementi che vengono da fuori quelle stragi non sono mai in qualche modo rivendicate dal Gie Algerino ma nell'opinione pubblica e nel sistema mediatico occidentale in Italia e in Francia sono sempre attribuite a questo tipo di realtà di matrici in cui lì si inizia a parlare veramente di terrorismo islamico e ancora di una forma molto molto pericolosa perché si rivolge contro i suoi stessi fratelli perché la cosa che sappiamo per certo è che le vittime algerine sono nella stragrande maggioranza musulmane e abbiamo una recrudescienza molto forte nei confronti dei gruppi intellettuali di quel paese una percentuale altissima un numero che credo superi il migliaia di unità di intellettuali di sinistra non dico di destra progressisti musulmani di altra varia natura vengono eliminati scientificamente tutti i soggetti che in qualche modo erano o potevano essere ostili al governo che poi si sviluppò e tutta una serie di stragi paradossali che ebbero il risultato di favorire una spopolazione un spopolamento di certe aree del paese aree in cui poi l'elite di governo in qualche modo sviluppare una serie di speculazione di liste di straordinaria e straordinaria efficacia tutta questa operazione che vi ho descritto e che è documentata nell'opinione pubblico occidentale invece nasce come una offensiva islamista nei confronti di una popolazione blasfema corrotta eccetera quindi vediamo come da un'operazione scientifica di una raffinatezza politica straordinaria si riesce a dare però l'immagine che in qualche modo l'islam sia l'assoluto responsabile di questo tipo di questo tipo di stragi questa è una chiave di lettura è una chiave di lettura importante in questa stagione non conosco purtroppo io sono andato nel 67 non conosco molto bene gli anni 70 ero piccolo un po' di più gli anni 80 eccetera e in questa stagione c'è una variante che riguarda anche il cosiddetto terrorismo islamico che è a differenza credo degli anni 70 c'è un allineamento molto forte nel sistema dei mass media cioè in tutto quello che è lo strumento essenziale fondamentale nella trasmissione di quelle che sono i fatti nella realtà nella percezione della realtà non si è detto prima ma vale appena ricordarlo che l'11 settembre del 2001 dista dai fatti del G8 meno di due mesi pare che si fosse parlato anche a Genoa all'interno del G8 di New York e di altre cose sono fatti abbastanza correlati e a partire dai giorni immediatamente successivi e negli anni seguenti assistiamo a una serie di bugie clamorose già sappiamo che i fatti dell'11 settembre non sono avvenuti come ci sono stati raccontati sappiamo che al Pentagono non ci fu mai nessun aereo sappiamo che tante cose sappiamo ad esempio che c'è una grossa incongruenza tra i cosiddetti autori dell'attentato gli autori gemelli con i reali esecutori c'è proprio una discrepanza in numero di persone abbiamo la lista dei passeggeri che poi viene cancellata eccetera eccetera siamo però nell'era di internet per cui certe immagini certe informazioni rimangono abbiamo tutta una serie di passaggi in cui la violenza aumenta e si arriva alla seconda abbiamo la grandissima menzogna che ormai sia statunitense che britannico sia del fatto che la giustificazione della seconda guerra nel golfo dopo un embargo di assoluta iniquità che ha avuto l'unico risultato non di indebolire tanto il regime di Saddam quanto quello di sterminare quasi un milione di cittadini irachieni già svenati e dissanguati della guerra con l'Iran eccetera abbiamo la menzogna che giustifica l'attacco all'Iraq ossia che l'Iraq possedeva armi di distrazione di massa che poi si è dimostrato e anche se ci fossero stati erano comunque di fabbricazione statunitense tra parentesi e in parte forse italiana però l'Italia si specializza in una produzione militare di mini anti-uomo eccetera più leggera diciamo meno pesante o pensante e la stessa cosa avviene anche in Gran Bretagna dove addirittura poi ci furono dei suicidi diciamo eccellenti questo ci deve far pensare a tante cose se queste persone se chi gestisce il mondo che non è Bush Bush è un paravelle è l'attuale vicepresidente degli Stati Uniti evidentemente se queste persone se le grandi multinazionali che gestiscono queste cose giungono a mentirci su ogni cosa e non sappiamo ancora ad esempio come è andato Ustica tanto per tornare agli anni Ottavani gli americani qualcosa sanno anche sul Moby Prince sono tante verità di cui non si parla se queste persone in maniera così scientifica hanno mentito su cose importanti dobbiamo quantomeno interrogarci sulla versione dei fatti che si dà di Londra che si è dato diciamo il Scega ancora non si è dato questa è una cosa di vera afferma restando l'assoluta priorità nostra di condannare ogni atto di terrorismo che non è previsto né nella nostra fede né in quella cattolica né in quella ebraica né in quella protestante non esiste il terrorismo cattolico protestante è terrorismo punto e basta è una forma di lotta politica in questo caso assolutamente cinica e probabilmente autoprodotta per giustificare alcune cose perché in fin dei conti il buon Andreotti buon fra virgolette ma insomma l'attuale classe dirigente a volte ce lo fa anche rimpiangere perlomeno in politica estera in cui all'epoca di Andreotti e Craxi con tutti i difetti che possono avere la politica estera italiana era assolutamente coerente in quanta politica araba medio orientale c'era una posizione piuttosto equidistante sulla questione palestinese e l'Italia era molto rispettata nel mondo io andai prima volta in Siria io ho abbracciato l'Islam otto anni fa andai in Siria nel 97 dopo essermi laureato e in quanto italiano mi stendevo il tappettino rosso ovunque perché avevamo veramente avevamo un'immagine rispetto ai tedeschi gli inglesi non parlando degli americani e francesi straordinaria pochi anni di governo Berlusconi e chi per lui hanno veramente cancellato l'immagine che l'Italia aveva nel mondo arabo per un certo allineamento con la politica statunitense per una assolutamente sproporzionata partigianeria filo israeliana e soprattutto una serie di motivi in cui l'immagine dell'Italia è scesa tant'è che l'attentato di Nasseria in parte si spiega anche con questa caduta fra virgolette di immagine che l'Italia ha nel mondo arabo e oltre al fatto che poi in Iraq effettivamente i nostri militari io sono un ex carabiniere quindi ho anche molti amici che ci sono andati sono di fatto lì non tanto come peacekeeping ma per altre finalità molto più pratiche venendo ai nostri giorni ripeto ritorniamo al tema e poi lascio la parola a Stefano detto bene? grande la resistenza si parla ora e ovviamente Sarno e Sheik è terrorismo Londra è terrorismo 11 settembre è terrorismo Madrid è terrorismo non parliamo non c'è nessuna forma di giustificazione anche se gli americani sono il tuo paese in Iraq né islamicamente né da parte della cultura Arba tu non puoi andare a colpire il nemico il nemico il cosiddetto nemico a casa sua né tantomeno uccidere dei civili neanche islamicamente l'islam si parla di jihad di guerra santa il jihad non significa guerra santa significa sforzo o lotta ma anche nell'estrema ipotesi di una di un'aggressione militare l'unica forma di lotta che è islamicamente consentita è quella di difesa del proprio territorio nazionale colpendo chi lo invade non colpendo i figli i parenti i cugini o il connazionale di chi lo invade questo per chiarire come l'islam legittimo o delegittimo di certo tipo di cose si parla di resistenza in Iraq abbiamo si parla propriamente o impropriamente di resistenza più o meno io non sono ancora stato lì mi hanno proposto di andarci per lavoro ma ovviamente finora ho declinato l'invito abbiamo una resistenza irachena che legittimamente si può definire tale che so che nasce dalla resistenza che avrebbe dovuto offrire Saddam Hussein all'atto dell'attuale invasione delle truppe statunitensi e il uomo Saddam Hussein tra molte più virgolette rispetto ad Andreotto ovviamente che è un assoluto drittatore un criminale eccetera ma era molto intelligente e sapendo dell'assoluta sproporzione tra l'aggressore e la sua disponibilità militare aveva deciso stabilito ormai lo sappiamo una linea di difesa abbastanza astuta cioè quella di fare entrare nel territorio iracheno le truppe statunitense e britanniche e poi aggredirle con cerchi concentrici di resistenza in qualche modo di indebolirle Saddam Hussein è stato tradito lo sappiamo si è già circolata questa voce anche in testimonianza diretta è stato tradito da suoi compagni eccetera e poi è stato arrestato e la resistenza è venuta c'è stata proprio la penetrazione velocissima delle truppe americane però poi gli elementi forti della resistenza sono rimasti e stanno continuando a opporsi alle truppe irachie ed è quella che è una legittima resistenza mirata alle truppe americane e tra l'altro resistenza formata da quel che sembra da elementi che appartenevano agli apparati statali irachieni quindi i suoi servizi di sicurezza che erano nell'area piuttosto efficienti le guardie repubblicane tutta una serie di soggetti e di unità militarmente molto preparate poi abbiamo il terrorismo altre forme di violenza evidentemente la resistenza reagisce violentamente Falluge è stata rasa al suolo dagli bombardamenti americani quindi non è una guerra stiamo parlando di 140.000 morti fino adesso dall'inizio della guerra e dalla sua presunta cosiddetta fine abbiamo il gruppo di Zarcaui e soci che invece hanno scelto e non sappiamo bene chi ci sia dietro anche la sigla al-Qaeda è molto interessante forse ancora non è facile capirlo chi c'è dietro questo tipo di logica ma la loro logica sostanziale è quella di creare un disordine indiscriminato che poi si collega tutta anche la sezione dei sequestri e tutta la stagione inaugurata pare in parte comunque l'intensità diminuita negli ultimi tempi il loro interesse è quello sembrerebbe quello di creare una sorta di disordine generalizzati in quanto in questo tipo di situazione hanno maggiore capacità operativa e di mimetismo sono molto mal viste dagli irachieni e dalla resistenza irachiana sono generalmente persone che provengono dall'esterno significativamente arabi ma non irachieni all'interno dello stato iracheno circolano operano un numero non precisato di squadre di servizi segreti di paesi dell'area oltre a quelli americani israeliani eccetera i nostri non credo se non in fase preventiva o informativa ma non a livello di guastatori e quindi questo contribuisce a creare quella che è la confusione nella quale anche gli stessi irachieni molto spesso non riescono a interpretare quella che è la loro realtà di sicuro posso concludere almeno questa prima parte dicendo che questa forma di violenza il terrorismo di Londra di Sharm el Sheik eccetera giova a chi giova come diceva il buon Andreotti per capire come stanno le cose molto spesso bisogna vedere a chi un atto politico giova a chi ha giovato il delitto l'omicidio di Aldo Moro non certo alle brigate rosse o a un movimento o ad altri e la dietrologia insomma se ne può fare in vari livelli non è il mio mestiere a chi giova tutto questo sicuramente non giova al mondo islamico non giova ai terroristi di Al Qaeda non giova alla resistenza irachena giova evidentemente a chi sta promuovendo una lotta contro il terrore contro il male all'industria bellica che via dietro a tutta una serie all'industria dei media tutta una serie di soggetti che traggono vantaggio da questo tipo di situazione forse le cose non sono cambiate rispetto agli anni 70 probabilmente sono peggiorate all'epoca forse le menti anche dei padroni era meno raffinata di quella attuale di sicuro quello che è il mio invito come musulmano qui riprendo in qualche modo alle veste di rappresentanti di una comunità islamica seppur locale è quella di non di non lasciarci andare a facili isterismi noi abbiamo assistito pochi giorni fa l'abbiamo documentato ed è anche su Arco Iris che è l'emittente che ci stava filmando ora una manifestazione della Lega Nord a 100 forse qualcuno avrà sentito a fronte di un episodio che non è mai avvenuto cioè si diceva che dei cittadini stranieri avessero l'indomani delle stragi di Londra inneggiato festeggiato in un bar pubblico in questi fatti ovviamente la cosa non era mai accaduta era facile verificarlo però è partita la macchina alcuni partiti di governo alleanza nazionale forse attraino forse nuove ed altri hanno iniziato a fare volantini è venuto l'onorevole Borghezio a 100 in quella sera c'è stata anche una sorta di spedizione punitiva squadrista alla stazione che ha avuto qualche episodio qualche schiaffone ma erano più i carabinieri e la polizia che non i manifestanti noi eravamo presenti abbiamo assistito e documentato questa cosa ripeto non cadere in questo tipo di isterismo e non credere assolutamente nelle facce di rappresentazione non tutto ciò che accade è evidentemente terrorismo di natura di matrice molto diversa non è per sua natura islamica ma la mia può essere una difesa di parte ma l'invito a cercare di capire con maggior lucidità e serenità quello che accade sperando che non accada mai nulla di simile in Italia ma credo che se dovesse accadere probabilmente la reazione dei nostri connazionali sarebbe molto meno civile ed equilibrata che non di quella degli spagnoli o dei britannici eccetera sarebbe probabile soprattutto in certe aree o regioni d'Italia che si scatene una caccia allo straniero sia già scatenata ora in maniera molto ridotta questo credo che sia il pericolo che noi tutti dobbiamo scongiurare un'ultima cosa noi abbiamo c'è non noi so che c'è in atto un'interpellanza parlamentare credo da parte proprio di un senatore dei comunisti italiani relativamente alle operazioni che sono state fatte di perquisizione nelle ultime settimane e che hanno avuto un effetto importante quello di tranquillizzare l'opinione pubblica ma anche quello di criminalizzare in qualche modo la realtà islamica organizzata perché colpevolizzando stringendo una sedia attorno alle moschee o ai centri culturali islamici che in cui generalmente non si producono bombe non si vendono bombe non si producono armi non ci sono armi da quel che sappiamo evidentemente si viene a ghettizzare una serie di risorse sociali e umane che potrebbero essere queste sì molto utili nella lotta nella prevenzione contro il terrorismo ma che ghettizzando in qualche modo deprivando di ogni dignità eccetera facendoli sentire dalla parte dei cattivi fra virgolette in qualche modo rischiamo di fare una politica poco producente anche per la sicurezza del nostro paese un ultimo ma se ne parliamo dopo per il momento c'è la parola Stefano Stefano secondo te a chi giovano queste bombe? Allora questa è la domanda cioè io sono molto contento di intervenire dopo l'amico della rappresentante islamica in quanto io assolutamente laico e ateo però condivido in grandissima parte adesso vorrei approfondire alcuni altri aspetti l'analisi che lui faceva si incomincia va bene Andrea no ma in questo caso poi anche come responsabile del movimento dei diritti civili per cui mi occupo è anche importante cominciare a dialogare in questi termini poi cercherò anche di spiegarlo nel mio intervento io intanto chiedo scusa a tutti perché vorrei dire molte cose sarò abbastanza schematico perché mi piacerebbe dare anche degli impulsi a un eventuale dibattito perché se no diventa una lezione in genere a me le lezioni non piacciono molto preferisco interloquire allora siamo partiti dalla questione degli anni 70 ma vorrei partire dal movimento anni 70 e movimento Genova cosa è cambiato io mi aggancio immediatamente a quello che diceva lui è cambiato tutto è assolutamente imparagonabile a mio avviso la cosa perché la caduta del muro e del sistema comunista nell'89 ha aperto la redefinizione io da comunista la definisco in termini di scontro imperialistico poi si può chiamare in altro modo di ridefinizione di distribuzione del potere dei territori geopolitici di influenza per cui si è dovuto e si è aperto il dopoialta è iniziato il capitolo di come ridistribuire il potere e la gestione del nostro mondo questo è quello che è avvenuto il movimento nel 77 si muoveva all'interno di una logica di tutt'altro tipo di guerra fredda di sconto di forte movimento di lavoratori per cui di classe in un sistema in cui le ideologie erano ancora forti e pregnanti noi assistiamo dopo la caduta del muro a un passaggio alla caduta assolutamente di ideologie prima di tutte la marxista quella diciamo così teoricamente sconfitta dalla caduta del muro di Berlino e poi questo è il capitolo lo chiudo per aprire un altro riapriamo alla riproporsi di altre ideologie di fatte sconfitte dalla storia sotto forma di etica pubblica per cui si riparlava della proposizione dei fascisti noi oggi i fascisti ce li troviamo in termini di valori di identità ma non ce li troviamo più in termini di ideologie etichettate in questo modo però ce li ritroviamo poi sarebbe bello analizzarlo nel nostro paese al governo e che si ripropongono come fautori di un'etica pubblica per cui per chi ama la filosofia di gentiliana memoria che era comunque il termine del fascismo per cui da qui la legge 40 il potere sul cittadino il poterlo controllare il dovergli dire come deve vivere cosa può fare cosa non può fare per cui questo meriterebbe a mio avviso un'analisi molto profonda e interessante anche rispetto ai rapporti sulla laicità e le religioni ma adesso vorrei aprire un altro capitolo perché vorrei in maniera schematica dire a mio parere come si può resistere oggi o come si deve resistere oggi io credo che soprattutto si deve resistere attraverso una giusta informazione e una giusta consapevolezza di quello che sta avvenendo ho uno spettatore attento che non è mai attraverso una giusta comprensione degli avvenimenti io faccio un brevissimo escurso escurso storico c'è esiste un progetto negli Stati Uniti un progetto che non è segreto o clandestino è stato discusso e votato dal Parlamento americano che nasce nel 92 poco prima delle elezioni di Clinton quando finisce la guerra del Golfo vi è una spaccatura all'interno dell'amministrazione americana c'è chi vorrebbe rimanere in Iraq e occuparlo c'è come il presidente Bush chi decide ragionando ancora in logiche di guerra fredda quelle lacuse che gli fanno i suoi oppositori interni di venire via dall'Iraq e di lasciare diciamo così di arginare dopo spiegherò meglio questo concetto di continuare la politica di argino una politica derivata dalla guerra fredda il segretario alla difesa in quel contesto è Ceni quello che adesso è il vicepresidente Bush Junior il suo sottosegretario è Wolfowitz un personaggio di cui si sente poco parlare ma abbastanza inquietante e pericoloso Wolfowitz presenta un progetto che in quel caso si può definire veramente fascista e paragonabile a quello di Hitler che spiega come attraverso la potenza militare gli Stati Uniti dovrebbero continuare occupare l'Iraq e non solo continuare ad allargare il dominio perché non bisogna più accadere che accada quello che è successo con l'Unione Sovietica una situazione di stallo per cui una potenza in grado di opporsi agli Stati Uniti ma bisogna far sì che tutte le arie che potrebbero in un futuro prossimo qui si parla di 10-20 anni per cui identificate come Cina India Russia Iran che potrebbe essere un po' lo geopolitico che si aggrega e può minacciare gli Stati Uniti l'Europa stessa bisognerebbe bloccare assolutamente da subito in vari modi la possibilità che si crei una forza tale da poter minacciare gli Stati Uniti e teorizza e teorizza mascheritto e votato dal Parlamento una guerra permanente di attacchi di interesse che base sulla geopolitica e la geoeconomia in quel momento viene sconfitta viene eletto Clinton la cosa si mette per un attimo da parte questi New Cons i famosi New Cons fondano un centro di studi e preparano momenti migliori fino a che riescano ad avere l'ascesa l'ascesa di Bush figlio che di fatto nel 2002 fa propria la loro politica proprio copiando i documenti che loro hanno anche esplicitato in questi anni ed è una cosa io mi sono stupito quando c'è stato approvato che il mondo non avesse reagito a niente perché se uno legge quei documenti fa sorridere Hitler perché tutto sommato Hitler si accontentava dell'Europa e del Nord Africa questi parlano di conquistare il mondo fatto salvo questo questo perché nasce sostanzialmente noi viviamo una struttura economica di grossa crisi il capitalismo è assolutamente in grossa crisi se uno guarda i dati soprattutto degli Stati Uniti un paese assolutamente indebitato e che vive sopra le proprie condizioni economiche per il semplice motivo che il dollaro è la moneta di riserva mondiale per cui gli permette un debito pubblico alcune speculazioni che ad esempio l'Italia e l'Europa non si potrebbe mai permettere se no dovrebbe avere avrebbe processi di inflazione e avrebbe ripercussioni economiche tragiche sostanzialmente gli Stati Uniti hanno bisogno di mantenere il loro tasso di vita il loro tasso di potere di acquisto loro hanno questa grande potenza militare che gli permette un dominio del mondo non hanno più soprattutto dalla nascita dell'euro la potenza economica che gli permette questa prevalenza di potere sul mondo tant'è che chi segue l'economia sa benissimo e la geopolitica che l'Iraq è stato attaccato perché aveva incominciato a pagare il petrolio in euro e non più in dollari avviando una possibilità avviando una possibilità concreta di minacciare il dollaro in quanto riserva mondiale che è la vera problema degli Stati Uniti e gli Stati Uniti non solo per questo motivo hanno attaccato l'Iraq hanno attaccato l'Iraq anche perché dovevano colpire gli interessi dell'Unione Europea perché la vera minaccia per gli Stati Uniti è l'euro e l'Unione Europea la Cina forse fra 50 anni per cui l'intervento era questo e per cui avevano bisogno attraverso il controllo delle risorse energetiche comunque di ricattare i paesi in via di sviluppo vedi Cina e India per cui potendo accerchiare anche militarmente l'India e l'India attraverso l'Afghanistan avvicinarsi il più possibile alla Cina e mettere in crisi gli interessi dell'Unione Europea cosa che hanno fatto e attraverso gli emissari di Bush che possiamo contare in Blair Berlusconi ma anche la Polonia i nuovi paesi che sono entrati minacciare anche quello che per l'America sarebbe stato forse un colpo difficilmente arginabile alla costituzione politica dell'Europa perché l'Europa è già abbastanza finanziariamente economicamente potente il rapporto euro-dollaro è forte perché i termini economici l'indibitamento europeo non è neanche paragonabile a quello americano poi non voglio andare a volte dal punto di vista economico se vi fosse stata anche una costituzione europea un'unione politica più forte la minaccia sarebbe stata per cui con politiche intelligenti furbe come quelle che prima l'amico spiegava sull'Algeria sono state fatte anche in Europa si sta incrinando si è incrinato penso che la bocciatura della costituzione europea per questo sia stato un colpo molto brutto e mi dispiace che alcune persone di sinistra invece se ne rarregrino perché non si rendano conto di quello che in realtà è successo e per cui hanno iniziato per cui hanno ottenuto con la guerra in Iraq quello che volevano gestione del petrolio basi nell'area e colpire gli interessi europei a chi giovano gli attentati tu mi chiedevi io ho letto un articolo ci sono dei siti che io vado a leggere spesso perché mi ho un po' informato su quello che accade che subito dopo gli attentati a Londra intitolavano parafrasando la tubo londinese next stop Teheran io non ho elementi cerco di ragionare non ho prove però se uno pensa agli attentati a Londra a chi servano e guarda quello che è successo in questi ultimi mesi credo di essere facile profeta a vedere che fra pochi mesi il prossimo paese attaccato sarà l'Iran il meccanismo potrà essere fra un po' incominceranno a uscire voci che dietro gli attentati a Londra c'erano gli iraniani fra un po' potrebbero uscire aprire meccanismi di informazione su anche il nuovo presidente che è stato eletto che per la verità elementi di turbamento gli dà però in termini geopolitici potrebbe essere anche un santo interesserebbe assolutamente poco ho paura che il meccanismo sia questo perché credere che gli attentati servano veramente alla resistenza tra virgolette musulmana è difficile è difficile è difficile pensare che qualcuno di buon senso apra una lotta per i diritti della comunità islami in quei termini è molto difficile se si guarda e su questo Andreotti veramente è da seguire fra l'altro lui nell'89 l'aveva detto dopo la caduta del muro mentre tutti festeggiavano l'unico disse mi sa che ce ne pentiremo e credo che avesse visto lungo per cui io credo che gli elementi siano purtroppo questi rispetto a questi elementi come resistere noi andiamo tutti gli economisti e gli storici più accreditati parlano di secolo buio di cent'anni di guerra perché l'economia capitalista a questo punto di crisi ha bisogno di investire si passa da welfare state al war state cioè ha bisogno di un'economia di guerra di investimenti l'economia di guerra adesso non è solo industria pesante anche intelligence e anche ricerca per cui noi andremo verso una destabilizzazione di guerra purtroppo credo molto lunga alcuni la chiamano la nuova guerra dei cent'anni spero che si sbaglino ma se si vedano i dati dell'economia purtroppo credo che per termini di autovalorizzazione del capitale questo purtroppo sarà il destino nostro e delle nostre generazioni cosa possiamo fare noi come possiamo resistere chiaramente io parlo da comunista per cui non nascondo le mie tendenze marxiste e leniniste nell'analizzare le cose cosa si può resistere noi purtroppo siamo in assoluta assenza in questi anni di un forte movimento dei lavoratori di un forte movimento progressista un po' perché come spiegava prima l'amico la destrutturizzazione del lavoro della fabbrica del lavoro ha portato una dispersione per cui anche una difficoltà da parte di quello che è stato negli anni settanta il sindacato i partiti di riuscire a parlare a costruire a organizzare i lavoratori adesso questo è assai più difficile anche per motivi strutturali e territoriali non vi è ancora una chiara analisi definitiva sugli avvenimenti economici di rappresentanza di classe che secondo me diventano fondamentali perché io amo le cose interclassiste sulla pace e tutto però gli interessi di classe io ci credo ancora gli interessi berlusconi non sono i miei è difficile riuscire a tutelare tutti e due allora manca ancora e questo dovremmo riuscire a coprirlo a breve come analisi sperando che le intelligenze di tutti lavorino a dare nuove analisi strutture a produrre un nuovo che fare perché il che fare di Lenin dell'ottocento è difficilmente riproducibile adesso in attesa di questo c'è bisogno di ricostruire un forte movimento di lavoratori progressisti c'è bisogno di una forte lucidità c'è bisogno a mio avviso in maniera molto pragmatica di tenere forte sulla costruzione dell'Europa unita dell'Europa politica c'è bisogno di non farci ridurre a un territorio di libero mercato c'è bisogno di stringere i denti io lo dico in termini anche sempre marxisti in questo caso critico alcuni esponenti di sinistra anche più a sinistra di me di partiti con nomi simili che non cadano nel dogmatismo e comprendono che forse in alcuni momenti storici c'è anche bisogno di alleanze con classi borghesi diverse per mantenere però qui si andrebbe in discorsi molto più alti non so se ho dato degli stimoli sufficienti sono andato molto a ruota libera vi chiedo scusa anche per il caos bene dunque ringraziamolo io vorrei adesso tornare un attimo indietro a quella che era la premessa che la premessa che ha fatto Romano Giuffrida insomma un po' la sua il percorso che lui ha tracciato dagli anni dagli anni 70 oggi elencando tutta una serie di forme di resistenza vecchie e nuove è venuta fuori anche ha parlato anche delle occupazioni parlandone riferito ad oggi cioè ha citato alcuni episodi senza dire precisamente quali comunque che riguardano la vita politica di tutti i giorni di questa città che hanno fatto molto discutere e sgomberi di disperati li hai definiti in questo modo ecco allora esiste un altro modo un'altra forma di resistenza che ha a che vedere anche con quello che diceva Romano Giuffrida che è la riappropriazione degli spazi soprattutto degli spazi abbandonati degli spazi dismessi degli spazi inutilizzati dei contenitori inutilizzati soprattutto nelle periferie io chiamo quindi qui Maria Grazia di Kakubo che è il cantiere culturale di Bologna Bolognese di Bologna o Bolognese Bolognese che sette mesi fa direi la notte di Capodanno dello scorso Capodanno questo cantiere insomma questo gruppo di persone tra cui anche Maria Grazia hanno occupato questa struttura dismessa proprio alla periferia di Bologna con l'intenzione di riqualificarla di farne appunto un quartiere di un un cantiere culturale passo la parola a Maria Grazia che ci racconta la loro esperienza niente mi sembra possiamo anche non usarlo il microfono tanto siamo in pochi forse serve per la registrazione ok niente allora intanto buonasera a tutti niente in due parole il Kakubo è una sigla che sta per cantiere culturale bolognese siamo nient'altro che un gruppo formato da associazioni informali e alcune formali che si sono riunite e hanno deciso di prendere un po' con la forza tra virgolette uno spazio abbandonato e di tentare di riqualificarlo e rivitalizzarlo riempendolo di contenuti culturali questa è la la base la filosofia dimostrare in qualche modo che anche Bologna come molte altre città d'Italia ha una periferia che poi adesso noi siamo in via Santa Caterina di quarto 50 non so se voi conoscete l'area è in fondo via San Donato e io credo che tra un paio di anni non si possa neanche più parlare di periferia perché è comunque un'area dove stanno costruendo dove ci sono tutta una serie di attività intorno e quindi niente l'intento era appunto di prendere uno spazio abbandonato e dimostrare che ci sono dei gruppi che hanno bisogno di esprimere la loro creatività le loro attività sociali politiche musicali di vario genere di varia natura e si sono un po' stancati di pagare affitti piuttosto che avere dei luoghi in prestito e per una notte consumare all'interno di una nottata o di due nottate quello che invece si può fare meglio con la continuità e con la possibilità appunto di lavorare in maniera costante e coerente prova nel fatto che noi siamo là da sei mesi è sei sette mesi diciamo e tutte le settimane noi ci incontriamo il mercoledì ogni mercoledì c'è la fila di altre associazioni anche grosse e importanti di Bologna che si sono anche loro rese conto che potevano venire a chiedere a noi quello che normalmente si chiede al comune che non hanno ottenuto degli spazi chiaramente a noi lo chiedono per un periodo per un evento oppure come ha fatto il teatrino clandestino per preparare il loro spettacolo il loro lavoro quindi alcuni di queste cioè ne va della loro professione ecco in termini di resistenza la nostra filosofia è un po' è un po' differente paradossalmente se domani mattina dovessero sgomberarci la nostra filosofia è quella di andarcene e ripetere la stessa operazione da un'altra parte quindi non di attaccarci a quello spazio che sappiamo già che appartiene in grande parte a un privato e in minor parte al comune ma semplicemente di utilizzarne un altro visto che la città comunque è piena e riproporre la stessa la stessa modalità infatti il comunicato noi in maniera anche un po' anomala abbiamo annunciato quello che stavamo facendo con una conferenza stampa e comunque abbiamo scritto anche una lettera al sindaco insomma c'è stata una forma di uscita pubblica dove dicevamo quello che stavamo per fare e quelle che erano le nostre intenzioni perché e lo dice già il titolo di questo documento che è cronaca di una tazza annunciata tazza sta per zone autogestite temporaneamente termine inglese abbastanza vecchio che noi abbiamo ripreso e niente il nostro obiettivo è semplicemente dimostrare quello che si può fare dentro questi spazi e dimostrare che ci sono dell'energia in città che hanno bisogno di esprimersi ma non è quello sicuramente di approparci di uno di questi e tenercelo stretto certo noi adesso lì dentro abbiamo fatto tutta una serie di investimenti in termini di tempo energia soldi però non ci siamo appropriati non ci leghiamo con la forza non andremo in piazza a manifestare non è il nostro stile non lo riteniamo producente quantomeno grazie a tutti